A Davidiano, in provincia di Potenza, sorge il castello Lago Pesore, venne edificato nel 1242 da Federico II di Sveria. A tutt'oggi la struttura esterna si presenta in condizioni ottimali, senza nessun intervento di ristrutturazione in tutti questi anni. Nel castello ci sarebbe uno spretto, quello di una ragazza detta Elena, Elena degli Angeli, che avrebbe perso sia il marito che i figli in giovane età e lei sarebbe morta da lì a poco. Elena apparirebbe appena cala il sole e sarebbe visibile in diverse finestre del castello. L'altro spirito o presenza dello stesso castello sarebbe quello del marito Manfredi, che apparirebbe su di un cavallo con un grande mantello verde e girerebbe nei rintorni della stessa maggiore. La leggenda narra che i due, anche al di là della morte, non si sarebbero più incontrati. Iscriviti al canale e condividi i video agli amici. Attiva le notifiche per essere aggiornato sui nuovi video.